Noi sapevamo che la squadra stavamo preparando molto per questa partita, sapevamo che il loro punto di forza sono di partenze, quindi dobbiamo stare attenti a quella cosa. Al primo tempo abbiamo fatto bene su questo punto di vista, poi al secondo tempo magari un po' peggio, però anche noi si aveva qualche palla a gol, si poteva chiudere prima, invece l'abbiamo chiuso e poi anche Flaminia c'era la sua occasione, comunque era una bella partita. Quattro punti in due partite, l'obiettivo della Pianesa sarà quello di disputare un campionato di alta classifica. Abbiamo una squadra forte che sicuramente punta per i punti più alti in classifica, abbiamo un buon mister, un staff in alta categoria, e speriamo che fa bene. Tutto sommato sei soddisfatto del punto ottenuto qui al Madami? Personalmente vorrei vincere, però voglio vincere tutti, però è andata così. Grazie e buon dietro. Grazie.